Abbiamo un vincitore per Flash Quiz, l'oggetto misterioso il cui premio in palio era un buono sconto del valore di 30 euro offerto da Il Gioiello, è stato riconosciuto dal nostro telespettatore Pierluigi. L'oggetto era una lampadina, ricordiamo che il regolamento di Flash Quiz è chiaro, dopo aver inviato la risposta bisogna fornire in modo veritiero e dettagliato informazioni richieste entro il giorno successivo, altrimenti non verrà assegnato alcun premio. Oggi invece, giovedì, sarà messo in palio un buono spesa di 30 euro spendibile nei negozi di Fabian Department Store e venerdì ancora un buono spesa da 30 euro spendibile alla corte inglese. A mezzanotte di ogni giorno si conoscerà il vincitore e naturalmente dal giorno dopo cambierà anche l'oggetto misterioso da indovinare. Vi ricordiamo quindi che dal lunedì al venerdì prima dei telegiornali di Italia 2 TV a partire dalle 14 andrà in onda il Flash Quiz del nuovo contenitore Vedi, video e vinci. I telespettatori da un particolare dell'oggetto dovranno indovinare di cosa si tratta. Il primo che riuscirà a scoprirlo per aggiudicarsi il premio in palio dovrà immediatamente dare la risposta esatta all'indirizzo mail flashquiz-italia2tv.it o potrà scrivere sulla pagina Facebook di Flash Quiz. Farà fede la data e l'orario dell'invio della mail o dell'inserimento su Facebook. È importante inoltre che si scriva il nome esatto dell'oggetto. Con le novità introdotte da lunedì cambia anche il regolamento che è integralmente pubblicato sulla pagina Facebook di Flash Quiz e sul sito web della nostra emittente www.italia2tv.it